Ciao a tutti ragazzi, oggi sono su Cyberpunk per un update al video precedente sul mio canale in questo video vi mostrerò la possibilità di aggiungere oltre ai materiali ed i soldi anche i punti talento e i punti attributo in più potrò aumentare anche lo spazio disponibile nel vostro inventario come vedete potrò raggiungere 9999 punti attributo e 9999 punti talento il livello 99 è naturalmente anche tutti i materiali se vi dovesse interessare ragazzi non esitate a contattarmi contattatemi sui miei link su Facebook ciao a tutti